Siamo qui nel padiglione Piaggio, un saluto da WebTV Studios e abbiamo con noi il direttore commerciale Italia, il responsabile vendita Italia, a cui chiediamo le novità di quest'anno esposte qui a Roma. Grazie, occasione importante, tanto pubblico, ieri maltempo, però grandi novità, finalmente disponibile la Caponord Rally Aprilia, presentiamo anche la RSV4 e la Tuono, di nuovo una presentazione più massiccia per MP3, che soprattutto nelle aree grandi metropolitane è un veicolo sicuro e quindi offre tante garanzie ai consumatori. E poi Vespa, Vespa rinnovata per quanto riguarda i modelli Primavera e Sprint e si può vedere in tutte le sue caratteristiche di colorazione. Ringraziamo molto e un saluto da WebTV Studios. Grazie a tutti!